Ciao a tutti ragazzi qua a ZV ben ritrovati nella mia carriera allenatore con la Juventus su PES 2019 Ragazzi allora nello scorso episodio abbiamo fatto delle partite così e così Adesso però dobbiamo per forza vincere perché questa sarà la partita della vita Per adesso cioè praticamente questa è l'ultima partita del girone di Champions Siamo contro il Liverpool anzi aspettate un attimo mi voglio far vedere Andiamo un attimino qua a vedere la nostra fase a gironi raga Allora siamo contro il Liverpool vedete noi vincendo passeremo come primi a 10 punti E il Bromby vincendo contro lo Sporting potrebbe addirittura passare come secondo Oppure lo Sporting vincendo contro il Bromby potrebbe passare come secondo Cioè ragazzi veramente questo è un girone assurdo Siamo riusciti a fare un girone bellissimo perché preferisco così combattuto Poi veramente a inizio gioco cioè facciamo cagare non che nessuno sia forte Però a inizio gioco veramente ho perso sia contro il Bromby contro lo Sporting ho pareggiato contro il Liverpool E ragazzi adesso appunto ci ho preso un pochino la mano magari ho capito certe dinamiche Andiamo un attimino a controllare la formazione però avete visto può passare chiunque in questo girone La formazione è questa Allora c'è Cristiano Ronaldo giù Togliamo Ronaldo No 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 Ronaldo deve restare ragazzi Liverpool Juventus Lasciate subito un bel mi piace ragazzi perché appunto non voglio andare in Europa League Non voglio non passare Voglio vincere la Champions League Ragazzi prima dell'inizio di FIFA 19 dobbiamo fare appunto la finale di Champions League con la Juventus Speriamo un bel mi piace Seguitemi su Instagram Zv.jackson perché ragazzi ve lo ricordo sempre Ah mi sono dimenticato di dire che questa serie della carriera uscirà due volte al giorno alle 14 e alle 19 E di iscrivervi e cliccare la campanella Ragazzi partite adesso scusate se non parlerò tantissimo in questa partita Comunque raga l'ha sentita la ventola che fa molto meno casino Cioè wow Comunque iniziate anche a suggerirmi qualche giocatore da comprare perché fra un po' si avvicina il mercato di gennaio Cioè fra un po' tra un bel po' però comunque ecco Iniziate Pallone nostro con Paul Pogba Dai ragazzi Bello lì in mezzo Miralem Pjanic Pjanic T'ho visto T'ho visto Ronaldo Che brutto passaggio stavolta Pjanic Tiro su non mi fido a fare passaggi su Pes Non mi fido proprio Ronaldo di testa Miralem 1-2 con il sergente Milinkovic Pjanic adesso Ronaldo Pjanic Ronaldo Può anche andare al tiro Così ragazzi stiamo giocando bene Copriamo bene in difesa La cosa più importante è questa Dobbiamo coprire bene in difesa perché Se ci fanno gol La vedo dura veramente Poi le squadre Sono come nelle realtà Si chiudono Occhio E poi lì davanti cazzo C'hanno due giocatori veramente forti Salah Che a gennaio forse lo compriamo Perché dovevamo già comprarlo Milinkovic adesso il sergente Chiede l'1-2 con Ronaldo Eccolo che arriva ancora il sergente Bellissimo Sergente Milinkovic Savic Kerius Perché Kerius in porta? Dov'è Allison? No ragazzi Occhio Mané dentro Rugani Giocano Non perderla Che cazzo Fortissimo Mané Rugani In qualche modo Pallone nostro Paul Si così Sergente Milinkovic Bello così per Di Bala Attenzione ragazzi Perché è una bellissima azione questa Di Bala Paolino Entra in aria Di Bala Di Bala Grandissimo Alexandro Che lo aggancia Miralem Per Milinkovic Douglas Costa Che si fa vedere poco Ma quando si fa vedere ragazzi Si sente Eh cazzarola Rugani tuo Bravissimo così Paul Lì così Bravo Dai ragazzi di prima Quando fate queste cose di prima Mi fate Emozionare Pjanic adesso Oddio Douglas Douglas Ehi Ci stava anche un fallo di mani Douglas Costa adesso Si ferma Bello A cercare Milinkovic Pallone ancora nostro però Con Paul Pjanic Vede Di Bala La sponda Cazzo Forte la difesa del Liverpool Fine primo tempo Raga dobbiamo vincere per forza Mi sto cagando addosso Non voglio perdere Neanche pareggiare Iniziamo a questo secondo tempo Fuori Fabigno Dentro la lana E Oxlade Chamberlain Intanto recupera un bel pallone Su Pogba Come ho detto Oxlade Chamberlain Contro giocans Romane E meno male Che ha sbagliato tutto Prião magari Lì a centrocampo Non mi sta piacendo Paul Bentancur È andato È chi posso far giocare Bentancur Anche se è giù Proviamo Proviamo lo stesso Mi fido molto di Bentancur Mi piace un sacco Come giocatore Sta crescendo molto È già cresciuto di due Cinquantaquattresimo Ragazzi Sento la pressione Veramente Devo vincere per forza L'avete visto che in che gironi siamo Cioè un girone assurdo Occhio Ragazzi prendi un gol E abbiamo perso Cioè non passiamo Mané Dentro Via 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 Vi prego No Via via Giocanselo Via via Bentancur Rugani Così Bello Paolino Bello così che ti ho visto in mezzo Bentancur Ok Savic Savic Qualcuno che si faccia vivo Qualcuno che si faccia vivo Porca puttana Douglas Costa Chiellini Top player Bentancur Dai raga Di bala Chiediamolo uno Due Perché Oddio Douglas 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 Costa Sempre lui 1-0 Juventus In casa del Liverpool Douglas Costa Ragazzi Che azione Bentancur Qua ragazzi Guardate Chiede 1-2 con Di Bala Ancora Di Bala Dentro E l'assist di Bentancur Appena entrato Bentancur È un fenomeno È un fenomeno E Douglas Costa La mette dentro Il Liverpool Non ci sta Perché lo sa che perde Altrimenti Fauricline Dentro Anderson Cioè Il Liverpool Così ragazzi Al 90% Non sarebbe in Champions Mamma mia Così dopo Andiamo a prenderci Salah Omane Uno di due Perché sicuramente Vorranno andare via A gennaio Cioè Non si sono qualificati neanche Alla fase Principale Di Champions League Robertson Non goffiamola raga Perché queste cose qua Veramente Cioè ci mettiamo un attimo Lo sapete come sono io Pjanic Per Douglas Costa Per Douglas Costa Chiediamo l'1-2 A Ronaldo Che arriva Puntuale Douglas Costa Entra in aria Douglas Costa Che gol Minchia che gol Quanto è forte Douglas Costa Chiede l'1-2 Con Ronaldo Ho già il secondo gol Che faccio così raga Ma un gol così bello Non l'avevo ancora fatto Guardate Pjanic Per Douglas Costa Che entra dentro L'1-2 Di Ronaldo Pallone qua Bomba Al volo Palo gol Non vorrei dire che è finita Addirittura Che giocano in difesa Quelli del Liverpool Fuori Robertson Dentro Wijnaldum Attacco totale del Liverpool Dobbiamo resistere E attaccare in contropiede Come abbiamo fatto adesso Con Douglas Costa E Ronaldo Occhio Mané Firmino Rugani ti prego Torna Torna anche tu Giocanselo Occhio ragazzi A Firmino Chiellini La palla resta lì via Tienila qua Bravissimo Cesni È nostro Milinkovic Il sergente Eh però Attenzione raga Oxlade Giorgino Wijnaldum Oddio Ce l'abbiamo Bentancur No perché Pjanic Si è girato Jordan Henderson Pjanic in pressing Tutta la nostra difesa Resta lì adesso Immobile Ad aspettare Giocanselo di testa La spaziamo via Ragazzi Contropiede con Dybala Milinkovic A cercare Douglas Il passaggio Stavolta a cercare Ronaldo Non me ne arriva Se no lì di nuovo Un triangolo chiuso E ciao C'era ancora Douglas lanciato a rete Eccolo qua Douglas adesso Che vede Cristiano Ronaldo Sulla corsa Cristiano Ronaldo Cos'è Passiamo ragazzi Passiamo Come i primi Nel girone Assurdo Perché Li abbiamo persi Abbiamo preso contro Il Bronby 1-0 Contro lo Sporting Lisbona Poi Nel girone L'andata di Champions Una merda Un punto abbiamo fatto In tre partite E invece adesso Migliore in campo Douglas Costa Chesney 5 Poi cos'altro Pogba 5 Dybala 5,5 Bentancur Ne è entrato 6,5 Ragazzi Ce la meritiamo Tutta 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 Il Bronby Distrugge Lo Sporting Lisbona Quindi A pari punti Juventus E Bronby Vanno Dritti Alla fase finale Da Champions League Liverpool Poi vincerti La Napa League Giocano solo Diventa 83 Mamma mia Moise Ken Diventa 74 Poi Vediamo cos'altro Nulla Vabbè Giocano solo 83 Ragazzi È un fenomeno Parire contro lo Spala Adesso Allora Offerta come allenatore Del Monaco No Ovvio che no Ovvio che no Ragazzi Voglio vedere adesso La Champions League Fase eliminazione diretta Siamo contro l'Ajax Che culo Che culo Allora Real Madrid PSG Cioè Ragazzi È andata benissimo Perché le più facili erano Ajax E Shakhtar Donetsk Però Ovviamente Che culo Abbiamo preso l'Ajax E adesso Andiamo a fare la partita Di Serie A Contro lo Spal Però ovviamente Voglio far riposare un attimino I giocatori che hanno dato tutto Tipo Ronaldo Mettiamo Mandzukic Sì ovviamente Fuori di Bala Mettiamo dentro anche Federico Bernanteschi Poi Rugani È giù Quindi io darei Magari un pochino più Di chance A Benatia Giù a Cancelo È giù Ed è stanco Quindi tranquillamente Mettiamo Alexander Arnold E poi Io direi di far giocare Isobe Al posto del sergente Milinkovic Savic Perché È un po' stanchino Partiti raga Isobe Alexander Mamma mia Ancora il 9 Devo cambiargli Lo sto numero Mi dimentico sempre Bernardeschi Per Alexander Arnold Paul Pogba Pjanic Per Douglas Costa Trova ancora sostegno In Pjanic Douglas Costa Punta l'uomo Douglas Costa Che cazzo di fenomeno è Paul Pogba Mandzukic Mamma che azione Paul Ehi Oh Che è successo What's happening No raga Lo spal Shesny Io con queste squadre piccole Faccio fatica Con le squadre grandi Che comunque dico Cazzo devo per forza vincere Mi esalto E gioco bene Con le squadre piccole Faccio cagare Veramente Bellissimo adesso L'azione Alexander Arnold Traversione in mezzo Non c'è nessuno Attenzione Isobe Proviamo il tiro Con Isobe Lo provo Lo testo Tanto so che Vi piace Quando provo Questi giovani giocatori Attenzione adesso Ragazzi allo spal Che prova Ad andare in aria Pjanic Dovrebbe essere finito Il primo tempo 0 a 0 Benatia Paul Pogba Isobe Emre Can Bello così per Mandzukic Paul Pogba Adesso aspettiamo L'inserimento di Isobe Che arriva puntuale Mario Mandzukic In mezzo 4-5 Mandzukic è un Trattore Alexandro Bello Mandzukic Bello ancora di più Per Paul Che prova il tiro Bello così Bello Bella azione Infatti Abbiamo anche sbloccato 10 passaggi di fila Corner Emre Can Il pallone arriva Dritto Su Mandzukic Non ho fatto ancora Un gol da calcio D'angolo Rambo Su peso Non sono capace Emre Can Emre Can Porta palla Vedo adesso L'inserimento di Mario Mandzukic Ma Emre Can Poi non fa il movimento Cioè Passi la palla Segui dopo Ti inserisci Petagna in aria Lo spal Vedete io con le squadre piccole Boh Faccio fatica Veramente Non so Il motivo Con le squadre piccole Faccio fatica Dovrebbe essere Il contrario Una vittoria facile Con le squadre piccole Sempre così Alexandre adesso Porta palla Douglas Costa Bello l'inserimento Di Emre Can A cercare ancora Alexandro Che sta per entrare in aria Giroud Douglas Costa Punto l'uomo Isobe Pogba Isobe Isobe Ragazzi faceva gol Isobe Occhio la palla Comunque E' ancora lì Paul Pogba Isobe Isobe Il tiro a giro Oddio Isobe Ci prova Siamo all'ottantatresimo Ragazzi Per favore Facciamo sto gol Veramente Non ne posso più di pareggiare Contro le squadrette Cioè Nulla contro la spalla Anzi Però Facciamo un cambio Se possiamo qua Perché E' infatti 0-0 Che pal Cristo Dio Perché contro le stesse squadre Cioè Ho appena vinto 2-0 In casa del Liverpool E poi faccio magicamente 0-0 Con la spalla Vabbè Boh Non so Il motivo raga Vediamo dove siamo in classifica Sì Sesti Però ha 3 punti E' bellissimo sto campionato Siamo tutti lì Paul Milinkovic Ancora per Il polpo Paul Proviamo la bomba da fuori Eh C'era quasi Di Bala Bellissimo 1-2 Pogba adesso Aspetta l'inserimento Di Ronaldo Che arriva puntuale Il siluro Però para bene Il portiere della Sampa Udero No è Udero Boh Non mi ricordo Bianco La mette dentro Miralem Pjanic Gioco al selo Bello Pogba adesso Pogba porta palla Il polpo Il polpo Paul Nessuno lo aiuta Allora Pogba decide di fare tutto da solo E poi la perde Ma perché nessuno lo aiuta Milinkovic Aspetta l'inserimento di qualcuno Non c'è mai nessuno E allora devo per forza fare i tiri da fuori Raga Non c'è mai nessuno Di Bala Mi hai rotto il cazzo Per favore Esci Bernardeschi Impressing sul portiere Dovrebbe essere nostro Perché c'è il sergente Infatti Appoggia Bene Per Ronaldo Brutto però Adesso il passaggio di ritorno E dai Ronaldo Così Va bene Paul Eccolo Ronaldo La bomba Ma cos'ha Udero oggi Ma proprio contro di me I portieri devono diventare fenomeni Metteva un bento ancora Al porto di Pogba Cioè raga Che parata ha fatto adesso Stiamo scherzando Guarda qua Assurdo Grandissimo Gioco in sero Miralem Pjanic Ronaldo La sponda per Savic Ancora Ronaldo Ventancur Pallone nostro Bernardeschi Ronaldo Si gira E stavolta la mette all'incrocio dei pali di Mancino Cristiano Ronaldo Finalmente Finalmente Cristiano Ronaldo 1-0 Bellissimo gol Cercato Tantissimo Questo gol Guardate qua come si gira bene Chiede 1-2 Con Bernardeschi Eccolo qua Bang Pallone che torna in qualche modo Ronaldo Sotto l'incrocio dei pali Odero Do Piglielo Vai a pigliare sto gol Sotto la porta però 1-0 Al 71esimo Rischiavamo ragazzi di fare 0-0 Anche in sta partita Perché fanno sti passaggi bruttissimi Però Gioco in sero Meno male che è un fulmine Ronaldo Chiede 1-2 con Savic Eccolo di ritorno Ronaldo Avete visto che è inciampato Ma non ho colpa io questa volta Bentancur di testa Bernardeschi Io non avevo colpa stavolta Bernardeschi Porta palla a lui adesso Bernardeschi Passaggio Mamma mia Che brutto movimento che ha fatto Ronaldo Il sergente Di tacco sempre Ancora il sergente Cercare Ronaldo In qualche modo il pallone Gli carambola addosso Ma finisce quella partita 1-0 Ci va Più che bene ragazzi Stavolta Più che bene Allora vediamo subito dove siamo In classifica adesso Siamo terzi A tre punti dal Napoli Adesso abbiamo la partita contro l'Atalanta E poi contro il Napoli stesso L'Atalanta comunque sta giocando bene ragazzi Allora raga L'episodio per oggi finisce qui Siamo stati super super bravi A passare in Champions Nel prossimo episodio Partita contro l'Atalanta Il Napoli E poi nel prossimo episodio ancora Calcio mercato Quindi iniziate a dirmi le trattative Da ziate voi tutto Ciao Ciao Ciao